Ultime invettive sui social, ma da più parti ora arriva l'invito a ristabilire un clima di serenità che possa essere a beneficio di tutti, dell'intera città e di chi dovrà governarla. Abbandonare dunque le contrapposizioni e pensare subito a risolvere le tante problematiche sul tappeto attraverso anche una collaborazione tra maggioranza e opposizione nel sole ed esclusivo interesse di ariano. Intercettare i finanziamenti, elaborare i progetti e risolvere le questioni più annose e questo che ora si aspetta nei cittadini a partire dagli elettori che con fiducia hanno scelto una nuova squadra governativa. Giovedì è il giorno dell'insediamento in consiglio comunale nella sala consigliare Giovanni Grasso con la proclamazione degli eletti e il passaggio di testimone tra il commissario prefettizio Silvana D'Agostino e il nuovo sindaco Enrico Franza. La squadra di maggioranza è così composta. Michela Cardinale, Luca Orsonia, Gian Battista Capozzi, Pasqualino Molinario, Andrea Melito, Valentina Pietrolà, Carmine Grasso, Laura Cervinaro, Veronica Tarantino e Roberto Cardinale. Sette sono volti nuovi e quattro ex della precedente breve esperienza amministrativa di Enrico Franza. Opposizione composta da Marco Lacarità, Marcello Luparella, Giovanni Lavita, Emerico Maria Mazza, Antonio Della Croce e Daniele Tiso, cinque ex amministratori, unico volto nuovo, il giornalista Marco Lacarità.